Pacchetto bellezza. Per la Yurveda Marishi la bellezza è considerata l'espressione della salute e del benessere interiore. I trattamenti di bellezza agiscono in maniera specifica, prendendosi cura della pelle per migliorare il suo valore estetico e il suo stato di salute, ridonando purezza, giovinezza, un aspetto brillante e luminoso grazie anche alle maschere per il viso ricco di erbe purificanti e sfoglianti e nutrienti.